Nel confronto pre-elettorale Chietino, le amministrative si avvicinano, le candidature incombono, non poteva mancare il tunnel che collegherà il parcheggio e il centro storico in prospettiva pedonalizzazione. Ipotesi irrealizzabile, pertanto spreco di denaro pubblico per l'aspirante sindaco di primio del centrodestra. Difende le scelte Francesco Ricci, sindaco uscente ed aspirante alla conferma. Insomma, è probabile che il mio avversario giri poco, nel senso dovunque va, nelle grandi città come Chiedi, che adesso lo fanno pure a Macerata, figuriamoci, però, insomma, Perugia, queste città che sono come Chiedi, sono una collina, oggi sono tutte quante servite da questi tipi di infrastrutture. Devo dire che quando abbiamo presentato il progetto del tunnel, che è un progetto che costa molto, giustamente, perché è un bel progetto, e nel contempo è un progetto infrastrutturale di sviluppo, è stato quello che i tecnici della regione, non i politici della regione, hanno giudicato come quello che poteva realmente cambiare l'accesso alla città, quindi pedonalizzare il centro. Non c'è paragone come servizi, nel senso che la Scala Mobile è una tecnologia antica che assolutamente energivora, cioè che mangia tantissima energia, molto di più del tunnel, e che ha bisogno di una manutenzione, che è un ascensore, insomma, della quale un ascensore non ha bisogno. Quindi proprio non c'è paragone tecnologico di modernità fra le due scelte, per quello noi abbiamo fatto la scelta del tunnel, e quindi credo appunto che sarà poi una cosa che porteranno in porto anche loro, nella malaurata ipotesi, dovessero vincere.